Ragazzi, io qui non ho parole. Bene ragazzi, vi starete chiedendo cosa ci faccio qua in un ambiente così, diverso da come... Siamo ospiti del Grand Hotel Primavera, qui a San Marino. Nella giornata di oggi e domani avremo la possibilità di visitare appunto la città e i suoi musei, le sue appunto attrattive. Il meteo, nonostante le previsioni, sembra dalla nostra parte, quindi non lo dico troppo forte. Andiamo! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui con due personaggi più particolari. Abbiamo Gianluigi di Wanderlust Italia, che adesso vi linko un video qua sopra per farvi vedere le sue performance in ambito canoro. Poi abbiamo Emanuele di Rack Your Trip. Ci tengo a sottolineare questa cosa, guardate il video, perché voglio diffondere l'idea dei disagiati del travel blog. Il video dice tutto. Vandale Ciancio, siamo a San Marino, Repubblica di San Marino, patrimonio UNESCO dal 2008. Come mai siamo qua a Sudio? Perché abbiamo finito ieri di girare la nostra fiera del turismo, il TTG, e eravamo appena a mezz'oretta di strada dalla fiera e abbiamo detto perché non visitare San Marino. E quando dovevo parlare io è andato via al sole, è un segno di intestino. Andiamo avanti qua, se no. Andiamo avanti qua, se no. Adesso siamo in Piazza Libertà e questo qui è il Palazzo Pubblico, ovvero il Palazzo del Governo di San Marino. Andiamo avanti qua, se no. Oggi noi siamo riusciti a parcheggiare parecchio in alto, quindi non abbiamo avuto bisogno di prendere la teleferica, ma qui, alle mie spalle, c'è l'arrivo della teleferica. La teleferica ha un costo, ma con la tourist card qua di San Marino il costo viene dimezzato. Questa è la tourist card che potete trovare sul sito oppure acquistarla direttamente qua a San Marino. Centro informazioni che praticamente, informazioni turistiche, è lì. Esattamente dove c'è l'arrivo della funicolare. Qui siamo in Piazzale Domus Plebis e questa qui, alle nostre spalle, è la Basilica del Santo. Adesso andiamo a visitarla. Oh Gianluca, non ne pensi qua di questa situazione di... Sembra di essere su un aereo praticamente, perché questa è la vista che hai dall'alto. come se sei su un aereo. Se vi rendete conto, siamo sopra le nuvole. Ti prendi bene, fai le foto fuori. Cioè noi praticamente lo stiamo vivendo direttamente qua. Come se fossimo sull'ala di un aereo. E anche questa volta si vede l'ombra. Guarda che si vede l'ombra nostra. Di basso. Nasticata questa cosa qua. È affigata. È la nostra ombra su un nuvole. È bellissima questa cosa. È una roba bellissima, secondo me. Bene, in cima a San Marino c'è questo castello della Guaita. Prima fortificazione del Monte Titano. Siamo saliti sulla prima fortezza di San Marino. Questa che vedete, la Torre Campanara. È stata aggiunta successivamente alla costruzione di questa fortezza. perché l'obiettivo era quella di avvisare i cittadini dell'arrivo di un pericolo e quindi farli preparare alla difesa del territorio. Siamo saliti. Siamo saliti. Siamo saliti. Siamo saliti. Bene, penso che di questo castello abbiate visto più che a sufficienza. Quindi concludiamo con questo video, questa prima parte del video. Il prossimo sarà appunto martedì prossimo, prossima settimana. E vi invito ad iscriverti al canale per non perderlo, a lasciare un bel like, a lasciare un commento sotto appunto il video se avete qualche domanda su questi posti o magari avete bisogno di qualche delucidazione. Niente ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento e alla prossima settimana, martedì. Ciao. Ma non c'ho gli occhiari, non mi fareste riprese del c***o. Cos'è questa roba? Un stabilizzatore. Ma sta buono che nello scarpe l'ho comprato i congi. Dunque la sposa ha dimenticato i fiori. Grazie eh. No, lascia l'è. Grazie. Auguri. Auguri eh, vive gli sposi. Grazie. Oh ragazzi. C'è il vin brulè. Allora Emma, abbiamo provato ad entrare qua al museo di stato, che è questo qua, e ci hanno rimbalzato perché l'erario invernale qua è dalle 9 di mattina alle 17 e 12 minuti. Il sabato lo venga fino alle 18 e 12. Io comunque so perché. Cioè, vi pare opportuno che è 17 e 12? Stai un cifratondo, no? Io so il perché. È fatto apposta, perché le casse chiudono 30 minuti prima. Ora ti sfido a trovare 30 minuti prima delle 17 e 12. Rapido, dai. 42. Eh. Quanto ci hai messo? Ci hai messo quei 4-5 secondi in più. È fatto apposta. Sono tutte tattiche, sono tutte tattiche. Vie utgete. Ho they. Ho la giù. Trocci. Ho la giù. Ho. Ho.